Dopo il successo di pubblico riscosso a Esernia con la storia della Fontana Fraterna, l'architetto Franco Valente ripete l'esperimento a Sessano del Molise. Domani sera in piazza parleremo di un evento che ha cambiato un po' tutta la storia dell'Italia meridionale, che è la Battaglia di Sessano, famosissima del 28 giugno 1442, che ha cambiato le sorti della vicenda angioina. Il Regno di Napoli finalmente passa dagli angioini agli aragonesi con Alfonso d'Aragona, che viene personalmente a difendere i suoi interessi contro gli angioini, facendo la battaglia contro Antonio Caldora, che era rimasto l'ultimo elemento a favore degli angioini. Antonio Caldora perderà questa battaglia, dopodiché Alfonso entrerà trionfante a Napoli e prenderà il potere. Praticamente il Regno angioino finisce, se vogliamo, con questa battaglia di Sessano del Molise. E del Molise poi cosa ne sarà? Il Molise cambierà, come accade sempre, cambia il padrone e quindi si adegua ai nuovi regnanti. Alfonso d'Aragona cambierà il Molise, cambierà attraverso anche l'utilizzazione dei traditori. Lì c'è la vicenda di Paolo Di Sangro, che costituirà poi un punto di partenza per delle modifiche in tutto il territorio, che porteranno poi, ne parleremo ovviamente per chi vorrà venire a sentire, anche delle conseguenze della presenza di Paolo Di Sangro, che costruirà il castello di Civitacampo Marano, ma sarà poi l'iniziatore di quella dinastia che porterà alla costruzione della chiesa del Cristo velato, la Cappella San Severo a Napoli.